GULAG. Quest'oggi Dömerminar Herrar tocca a un argomento leggero leggero e intriso di felicità, da acronimo per GLAVNI E UPRAVLINI LAGERI. Cioè direzione principale dei campi di lavoro correttivi, il termine divenne rapidamente sinonimo dell'intero sistema repressivo sovietico, cioè l'insieme di procedure che i detenuti chiamavano col nome di tritacarne. Arresti, interrogatori, trasferimenti in carri bestiame senza riscaldamento, lavori forzati, distruzione di famiglie intere, anni di esilio e morti premature. Qual è l'origine del GULAG? Ma soprattutto perché è stato un sistema così prediletto nell'Unione Sovietica tra gli anni 30 e 50? Per capirlo meglio dobbiamo tornare indietro di circa nove decenni, perché 90 anni non è che mi piaceva tanto dirlo. Essere esiliati in luoghi lontani dove i prigionieri potevano scontare i propri debiti verso la società era una pratica da tempo consolidata in epoca zarista. Già nel XVIII secolo non era raro che lo zar utilizzasse sia l'esilio che il lavoro forzato come forme di condanna giudiziaria. Ereditato e sbandierato come metodo correttivo al caos che si era sviluppato dall'abdicazione di Nicola II, il terrore di massa contro avversari reali o presunti fece parte della rivoluzione russa fin dal principio, a partire dall'estate del 1918. Lenin, il leader rivoluzionario, pretese subito che tutti gli elementi inaffidabili della società venissero incarcerati in campi installati al di fuori delle grandi città. Aristocratici, mercanti, contro rivoluzionari. Tutti questi inizialmente furono le prime vittime riabilitate del sistema che nel 1921 vantava circa 85 campi correttivi per nemici della rivoluzione. La definizione di nemico della rivoluzione data dalle autorità sovietiche fu sempre molto vaga. In linea teorica chiunque poteva esserlo, ladri, assassini, corrotti, personaggi politici, le guardie, ma anche gli stessi amministratori dei gulag e persino gli alti funzionari della polizia segreta russa potevano essere imprigionati e condannati. In altre parole non tutte le vipere erano depredatori. Dal 1929 i campi acquisirono un nuovo significato quando Stalin decise di utilizzare il lavoro forzato sia per accelerare l'industrializzazione dell'URSS sia per sfruttare le risorse naturali dell'estremo nord, quasi del tutto disabitato. Sempre quello stesso anno la polizia segreta sovietica, lo GPU, cominciò a prendere il controllo dell'intero sistema penale sovietico, sottraendo lentamente alla magistratura tutti i campi e le prigioni di cui essa aveva controllo. Con l'aumentare degli arresti di massa tra il 37 e il 38, diretta conseguenza delle grandi purghe, i campi conobbero un periodo di rapida espansione. Il numero complessivo di zek, cioè di prigionieri, nei campi, nelle colonie e nelle prigioni, raggiunse l'apice nei primi anni 50, ben oltre i 5 milioni di persone. Sotto Stalin circa 18 milioni di persone fecero esperienza di almeno un gulag. Dal 1921 al 1953, secondo i dati ufficiali, circa 800.000 persone, indubbiamente molte di più, persero la vita in questo sistema distruttivo. In quel trentennio i leader di partito vedevano la repressione come uno strumento che doveva essere utilizzato per assicurare il normale funzionamento del sistema statale sovietico, così come per preservare e rafforzare le posizioni all'interno della loro base sociale, vale a dire la classe operaia. La necessità di costruire sempre più campi di internamento venne innescata dalla politica di collettivizzazione della terra per tutti quanti i cittadini e anche dalla necessità da essa derivante di annientare i kulaki come classe sociale, cioè tutti i contadini benagiati che erano visti dal regime come tra i peggiori nemici dello Stato. Tutto ciò faceva parte del nuovo progetto socialista. La collettivizzazione era vista come un modo per modernizzare e creare un'agricoltura prettamente socialista, di tutti, che consentisse allo Stato di prelevare la quasi totalità del grano dai contadini, mentre la deculachizzazione rappresentava l'espressione della lotta di classe nelle campagne. Dalla morte di Stalin i campi furono a poco a poco, nel corso dei decenni, smantellati o riformati in prigioni minori. Benché Stalin avesse creduto per tutta la vita che il gulag fosse un elemento essenziale per la crescita economica sovietica, i suoi eredi politici erano ben consapevoli che questi fossero in realtà una delle ragioni del ritardo economico del paese. Nel fenomeno del gulag molti hanno visto una contraddizione, una farsa, prima di tutte quella economica. Perché se i gulag avevano lo scopo di aumentare l'economia del paese, allora si arrestavano tanti membri della popolazione che non erano idonei a lavorare in condizioni estreme, come ad esempio gli anziani o gli invalidi. Ma soprattutto, a livello riformativo, come poteva un regime dichiaratamente ateo parlare di redenzione e miglioramento spirituale. Perché ufficialmente a questo servivano i campi di sterminio artici di Colima o quelli delle steppe kazache. Servivano a redimere politicamente, socialmente e umanamente una persona. Sulla carta, le autorità sovietiche, se volevano, avevano la capacità, l'esperienza e le strutture per sterminare tutte le persone che finirono in un gulag. Ma non lo fecero. scelsero di non creare una vera e propria istituzione genocida. E questa è una delle domande principali ancora aperta oggi. Perché questa mania sadica? Perché non farla finita subito? Che il lavoro forzato fosse senza costi o comunque a basso impatto economico era solo un'illusione. Il gulag era uno spreco di risorse economiche. Il lavoro forzato era inefficace, quasi esclusivamente fisico, e soprattutto non qualificato. Di conseguenza, la produttività rimaneva bassa e non ripagava certo dell'investimento messo per costruire miniere o ferrovie. Le stesse autorità sovietiche lo ammisero sul finire degli anni 30. I gulag avevano una produzione media giornaliera inferiore del 50% rispetto a quella di un lavoratore libero. Ennesima domanda. Perché allora il gulag fu un sistema fortemente voluto dai sovietici? Ennesima risposta. Le autorità sovietiche potrebbero essersi ingannate per anni sulla redditività di questo sistema. Dall'altra parte forse erano gli stessi organi di controllo, come la polizia, ad avere un interesse, per tornaconto personale, nel promuovere il lavoro dei gulag come un qualcosa di redditizio. Dopotutto il gulag era pur sempre un'istituzione penale. Ma qual era il beneficio apportato dal fatto che i detenuti scavassero a mano o con pale scassate una trincea con 30 gradi sotto zero? Certamente non era una cosa produttiva, né tantomeno economicamente razionale. Eppure ogni singolo prigioniero doveva lavorare. La produzione reale per singolo prigioniero era una cosa puramente secondaria. Appunto. Quello che importava era il concetto, l'ideologia. Fu proprio l'ideologia, soprattutto quella della colonizzazione, a incentivare la costruzione di gulag nelle periferie estreme dell'Unione Sovietica. Colonizzare dove gli altri non erano mai arrivati serviva a portare i frutti della civiltà socialista in ogni angolo dell'Unione Sovietica. Sparsi per tutto il territorio sovietico, i gulag principali erano quelli situati nelle regioni più estreme, quelle artiche e siberiane, nel nord-est, oppure quelli nelle vaste praterie dell'Asia centrale. Famosi erano quelli del Sevo Stalg, nella piana di Colima, quello di Vorkuta, il più grande di tutti, oppure quello di Karaganda, nell'attuale Kazakistan. Ma questi erano la punta dell'iceberg. In Unione Sovietica si arrivò a numeri straordinariamente elevati, ad almeno 476 complessi consistenti in migliaia di campi di detenzione singoli. Bene, ora che abbiamo introdotto almeno un po' la questione, cerchiamo di capire a cosa serviva un gulag. Il ruolo di un gulag era essenzialmente su tre livelli, economico, politico e morale. Economicamente un gulag non era altro che una macchina fondata sul lavoro schiavista, un lavoro che era stato il risultato delle politiche di industrializzazione stalinista. Tuttavia il modello su cui si fondavano questi campi era, come accennato, ben lontano dall'essere efficiente dal punto di vista economico. A livello politico il sistema isolava di fatto masse di potenziali dissidenti e scoraggiava qualsiasi tipo di attività antiregime. Da questo punto di vista ragioni economiche e politiche si unificavano. Stalin, unendo l'utile con il dilettevole, prendeva dei nemici politici per renderli schiavi lavoratori con una durata dalla pena indefinita. Scordiamoci le amnistie. Per comprendere un gulag a livello morale entrano in gioco i principi del marxismo e del bolcevismo. Fu il clima generalizzato di caos e di guerra civile, come anche il tentativo di industrializzare rapidamente un'economia contadina arretrata per prepararla a un'eventuale guerra contro le potenze capitaliste, a rendere il gulag uno strumento di deterrenza privilegiato per il regime di Stalin. La creazione di una società perfetta, la lotta come motore della storia, i nemici del popolo che bloccano il cammino verso una società utopica, il lavoro come tratto distintivo dell'umanità e la criminalità prodotta dalle condizioni sociali. Senza questi presupposti ideologici il gulag oggi per noi non avrebbe alcun senso. Certamente l'ideologia divenne anche col tempo la scusante. I sovietici sfruttarono ideologia e propaganda per dare una giustificazione all'esistenza del gulag, come anche per obbligare i prigionieri a lavori in grande stile, uno su tutti l'esempio del canale del Mar Bianco Mar Baltico, il Belomor. Privando i prigionieri di qualsiasi umanità, i gulag erano stati studiati per essere la fase finale di un lungo processo umiliante che partiva anzitutto con la retorica politica. Prima di essere condannati, i nemici del popolo venivano regolarmente umiliati nelle assemblee, licenziati dai loro rispettivi lavori per giusta causa, espulsi dal partito politico e accusati, in pubblica piazza, dalle loro stesse famiglie. Socialmente i campi erano un luogo in cui venivano relegati gli individui che erano ritenuti dannosi e inadatti alla nuova società che stava prendendo forma. Essere un detenuto di un gulag significava letteralmente scomparire dal mondo civilizzato, non essere più parte della società, ma morire, probabilmente, in una zona ignota della taiga siberiana. Il gulag, come la stessa rivoluzione bolshevica, rappresentava per i russi il prodotto di una nuova politica ad intendere la società, una società che era vista come un soggetto da scolpire e modellare secondo il volere dello Stato. E per farciò lo Stato aveva poteri illimitati per agire, in quanto tutto era lecito per far sì che si potesse dare avvio a una società migliore. Agli occhi dei bolshevichi, la società era come gli individui che la componevano. Poteva essere controllata, trasformata e curata. Isolare e relegare una persona nell'estremo oriente russo non significava però curarla automaticamente da un punto di vista sociale. Di conseguenza il gulag nei primi anni venti passò, in teoria e poi anche nella pratica, da un sistema di semplice isolamento a un sistema dove i detenuti dovevano essere riformati, cioè socialmente curati, dal loro peccato criminale. Secondo l'ideologia sovietica, un nemico del popolo era chiunque contaminasse la società con politiche divergenti da quelle del regime, incompatibili con esso. A questo si aggiungeva l'ansia che i russi avevano nel rapportarsi alle altre potenze mondiali. In un famoso discorso del 1931, Stalin dichiarò infatti Rispetto ai paesi avanzati, siamo rimasti indietro di almeno 50 anni. Dobbiamo colmare questo divario in appena un decennio. O lo facciamo, o saremo schiacciati. In parole povere, la criminalità era una malattia che doveva essere curata dal governo socialista, pena il fallimento del nuovo ordine sociale creato dalla rivoluzione. Basti pensare ai prigionieri della ferrovia Baikalamur che, in contrasto col mito del lavoratore eroe, venivano definiti come dei criminali malati e deviati. Questo contribuiva a rafforzare l'immagine di un gulag come misteriosa terra di dannati. Il concetto di criminalità non era poi stato scelto a caso. I bolshevichi vedevano la criminalità in relazione alla guerra di classe. Il crimine era infatti il residuo dello sfruttamento tra classi. Criminale non era l'operaio che per vivere rubava il pan al fornaio, quella era sopravvivenza, frutto dell'ingiustizia sociale. Criminale era piuttosto il borghese capitalista, il vero responsabile da cui si originava il crimine, l'elemento principale che non contribuiva alla dittatura del proletariato. Da pericolo per una classe, quella operaia, una volta preso il potere, il male, secondo la retorica socialista, si estese così a tutto il popolo. Il nemico del popolo doveva pertanto essere isolato dalla società per andare incontro a due scelte. Essere riformato o essere distrutto. Giudicare penalmente un cittadino sovietico significava, in maniera molto semplice, etichettarlo come contro di noi o dalla nostra parte. Non c'erano vie di mezzo. I bolshevichi vollero in tutti i modi creare con la forza una società omologata, nella quale tutti potevano partecipare. Da qui il fatto che il socialismo privilegiava l'idea di inclusione, anche forzata. Nessuno poteva restare al di fuori della rivoluzione in corso, nemmeno il peggiore dei prigionieri. Come recitavano infatti gli slogan nel campo di Solovecki, nel Mar Baltico, alla fine degli anni venti, un prigioniero è un partecipante attivo alla costruzione socialista. Un'affermazione che era la quintessenza dello staccanovismo. Nella società sovietica non c'era tempo per ozziare, tutto era movimento. Anche nei gulag bisognava lavorare e produrre, o almeno far finta di produrre. I manifesti in uno dei campi di Colima, alla fine degli anni trenta, proclamavano «Il nostro lavoro altruistico sarà l'orgoglio degli operai del futuro». Nella visione bolscevica, per superare la svalorizzazione borghese del lavoro che portava il proletario per necessità a diventare un criminale, i gulag servivano a insegnare al criminale il valore del lavoro, facendo leva sull'antica visione marxista secondo cui il lavoro era l'attività che distingueva l'uomo dall'animale. Una vera nobilitazione. Per dimostrare di essere un uomo migliore, il detenuto doveva dimostrarsi all'altezza dei compiti assegnati, tirando fuori la capacità di sapersi guadagnare la redenzione. E per far ciò il regime non poteva creare un sistema casuale, aleatorio. Per questo il gulag era un'istituzione vera e propria, con una struttura completamente gerarchica, dall'organizzazione del lavoro alle attività culturali proposte ai detenuti. Proprio a causa delle complesse motivazioni alla base della loro origine, i gulag avevano moltissime sfaccettature. Prigioni di detenzioni, campi speciali, campi di lavoro correttivo, insediamenti speciali, colonie, campi di lavoro forzato, penitenziari scientifici, i famosi sharaska, i campi per i prigionieri di guerra, e così via. A partire dalla posizione geografica, la gerarchia dei campi aveva inoltre un suo ordine. Quelli localizzati nelle regioni più remote erano di solito i campi destinati ai detenuti giudicati più pericolosi. Il gulag di Colima era utilizzato come minaccia per i prigionieri di altri campi minori. All'interno di uno stesso gulag c'era poi un sottoinsieme di gerarchie molto complesse. La prima di queste era la prigione, che svolgeva essenzialmente il compito di tenere gli interrogatori all'arrivo dei detenuti. Le prigioni si trovavano quasi sempre all'entrata di un gulag, e servivano a selezionare e filtrare i prigionieri. Era nelle prigioni che i detenuti attendevano il loro destino. Un diverso tipo di prigione, la prigione interna del campo, occupava lo spazio tra il campo effettivo e la prigione utilizzata per gli interrogatori. Era qui che le autorità tenevano per brevi periodi i detenuti che violavano le regole del campo, come ad esempio rifiutarsi di lavorare. Queste prigioni interne erano uno dei luoghi più infernali del gulag. Solitamente buie, fredde, prive di coperte e spesso con i prigionieri spogliati dei loro indumenti. Nelle prigioni non c'erano attività culturali collettive o sforzi per rieducare il condannato. Parlare, cantare, picchiettare sui muri delle celle e avvicinarsi alle finestre erano atteggiamenti proibiti. A queste prime divisioni gerarchiche c'erano da aggiungere poi le catorga, una sorta di struttura di massima sicurezza, e i campi di lavoro correttivi. Le catorga, già presenti come forma di detenzione per i lavori forzati durante l'epoca zarista, servivano a trattenere i detenuti giudicati più pericolosi, ed erano le più severe del sistema gulag. In esse era compreso l'uso delle manette, i numeri sui vestiti dei detenuti per identificarli, le caserme chiuse a chiave e il disincentivo del dialogo tra detenuti. I campi di lavoro correttivi erano poi quelli più tipicamente associati alle immagini del gulag che noi abbiamo, quelle dove gruppi di internati venivano costretti a scavare una strada, a picconare una montagna, a trasportare carbone nelle miniere o a installare le rotaie di una ferrovia nel mezzo della tundra innevata. A seconda dell'anno e dell'attendibilità delle statistiche ufficiali, dall'1 al 25% della popolazione dei gulag moriva annualmente per una vasta gamma di cause, tra cui malattie legate alla fame, incidenti sul posto di lavoro, come anche violenza da parte di guardie e prigionieri. Così, per molti, ricevere una pena da scontare nei campi di lavoro correttivi da parte della cieca o delle NKVD equivaleva in realtà a una condanna a morte quasi certa. Ma hey, guardiamo il lato positivo. Perlomeno a Colima, stando ai documenti dell'epoca, c'era un'orchestra che accoglieva a suon di musica l'arrivo dei prigionieri. Per quanto sadico possa sembrare, il fatto di mettere un'orchestra all'entrata del gulag aveva una logica tutta sua. La musica patriottica delle bande, i manifesti che incitavano al lavoro operaio, la vita collettiva esaltata sia nelle caserme che durante il lavoro, erano parte di uno spazio artificiale, creato dalle autorità sovietiche, nel quale l'obiettivo era quello di annullare l'individualità dell'essere umano. Il lavoro divenne così il simbolo, il tratto distintivo del gulag sovietico, e andò a occupare una parte schiacciante della vita quotidiana di ciascun prigioniero. I detenuti passavano fino a 12 ore al giorno a lavorare, senza contare gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro. I condannati dormivano inoltre meno di 4 ore. Certo, venivano pagati circa il 40% delle rimanenze, ma in che condizioni? Con la fatica e la vita di moltissime persone anonime, l'Unione Sovietica realizzò massicci progetti edilizi, come il canale che collegava il Mar Baltico al Mar Bianco, oppure l'installazione di proficui miniere d'oro lungo il fiume Colima. Ma in Unione Sovietica, come teorizzato dallo stesso Trotsky, il lavoro correttivo era molto più che una semplice attività economica. Lavoro correttivo significava produrre economia e allo stesso tempo trasformare l'essere umano. Come celebrato in gulag come quelli della Kamchatka o di Novosibirsk, il lavoro in Unione Sovietica è diventato una questione di onore, una questione di gloria, di valore e di eroismo. Il lavoro è l'espressione razionale di una vita felice. Era così che le riunioni di produzione, alle quali i prigionieri erano costretti a partecipare, venivano indette con un unico intento. Trovare il modo per aumentare rapidamente la produzione in modo da fornire al paese la quantità di materiale o minerali necessaria per costruire un potenziale industriale degno del suo nome, come anche aumentare la ricchezza dei cittadini sovietici e rafforzare la posizione dell'Unione nel mondo. Ogni prigioniero doveva essere informato sui piani di produzione e anche della situazione politica attuale del paese. Pertanto ogni mattina si teneva regolarmente una sessione di produzione di 5 minuti, mentre una volta tornati al campo, la sera, si apriva una sessione di politica di 5 minuti. Per dirla con le parole del ministro degli esteri Andrei Vyshynski, il lavoro correttivo nei campi non è quel tipo di lavoro che prosciuga la mente e il cuore dell'essere umano, ma piuttosto il lavoro prodigioso, miracoloso, che trasforma le persone da esseri inesistenti e insignificanti in eroi della patria. Nella società sovietica, tra virgolette, libera, ai lavoratori era spesso richiesto di dedicare le pause pranzo a discutere della situazione internazionale o al modo in cui diffondere il socialismo nel mondo. Allo stesso modo, gli esiliati nei gulag erano costantemente chiamati a mostrare un atteggiamento politico corretto nei confronti del loro stesso lavoro. Non a caso, diversi condannati riportarono la medesima frase. Nell'Unione Sovietica di Stalin, la differenza tra la vita nei campi e la vita al di fuori di essi era solo apparente. Alla fine della fiera, il gulag altro non era che uno specchio in miniatura della società sovietica. Un grazie enorme e speciale a tutti per l'attenzione. Come sempre vi ricordo che Patreon è l'unico modo concreto grazie al quale io posso continuare a realizzare questo genere di video documentari, specialmente quelli con argomenti controversi, scottanti ed esclusi dalla monetizzazione come questo. Un saluto a tutti i mecinati che mi supportano quotidianamente e ai quali, a novembre, darò la possibilità di scegliere la programmazione dei quattro video del mese. A presto ragazzi, per Aspera ad Astra.